Cosa vuol dire per te utilizzare la voce? Mi nasce proprio così spontanea questa domanda. Sì, per me vuol dire ricercare la verità. Ricercare la verità per me significa cercare proprio il divino nelle cose. Ho scoperto per me che la mia verità è contenuta nella mia voce, nel senso ora per esempio stiamo facendo un'intervista, mi stiamo facendo delle domande e ti sto parlando, eppure io so che se io ti cantassi una canzone tu capiresti molte più cose di me. Perché ho scoperto che la mia voce è la mia verità. Ci sono custodite in delle vibrazioni, in delle cose, tantissime sfaccettature che a parole io non so comunicare. Me ne accorgo quando qualcuno viene a dirmi delle cose, dopo che ho cantato, come fa a saperle? Quando io non le ho raccontate eppure sono arrivate. Flippi, 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 cremi, dot com.